Musica Amici di Blog Sicilia, una buona giornata e benvenuti a una nuova puntata di approfondimento con Talk Sicilia. Oggi siamo qui in studio con un ospite di livello internazionale, parliamo di Pamela Conti, CT della Nazionale Femminile del Venezuela che recentemente, non più tardi due settimane fa, ha vinto l'oro ai giochi olimpici sudamericani, il primo trofeo internazionale di un certo rilievo per la nazionale venezuelana, le vino tintos come vengono chiamate. Pamela, buongiorno intanto. Buongiorno. E allora, raccontaci di questo, partiamo subito con la cronaca diciamo, raccontaci di questo successo, come è nato, quanto ci avete lavorato. Ci abbiamo lavorato da più di un anno, sapevamo che avevamo una squadra competitiva per poter vincere l'oro. L'abbiamo vinto a Rigori, quindi penso che sia ancora un po' più bello dopo aver perso la qualificazione mondiale contro il Cile. Poche settimane prima. Poche settimane, no, qualche mese prima. E quindi c'è stata quasi una rivalza, una rivincita, perché Rigori una volta si perde, una volta si vince, questa volta, ringraziando Dio, l'abbiamo spuntata noi. Quindi ci siamo portati a casa questo oro per la prima volta nella storia di Venezuela. Senti, che sensazione hai avuto? In Venezuela si è fatto un gran parlare di questo successo internazionale. Avete finalmente sfatato un tabù, avete vinto a livello internazionale. Sì, è stato qualcosa di incredibile. Io non ho avuto la possibilità di tornare a Caracas perché sono dovuta venire qui a Palermo per problemi familiari. Ancora non sono tornata a Caracas e spero di tornarci presto per continuare i festeggiamenti. Però sappiamo che il Presidente della Federazione ti ha detto finché vinci sei per zona di rimanere quanto vuoi, giusto? No, finché vinci ti faccio entrare in Venezuela. Ancora meglio, quindi ancora più. Ecco, poi vediamo alcune foto tue di repertorio. Ricordiamo che Pamela Conti, oltre a essere chiaramente il CT della Nazionale Venezuelana, ha avuto una grandissima carriera da calciatrice anche nazionale, ma insomma è stata a Giramondo. È stata a Giramondo perché hai cominciato prestissimo nella tua Palermo con le Aquile. Poi sei andata subito in Sardegna, hai vinto qualche scudetto qua e là, e poi sei andata all'estero. Raccontaci tu. Sì, ho fatto, ho giocato dieci stagioni alla Torres dove, come dici te, ho vinto qualcosa. Abbiamo vinto tanto. Poi mi sono trasferita in Spagna. Ho fatto Levante, Spagnol e Levante, dove ho vinto anche una Coppa dell'Arena. Che sarebbe la Coppa del Re Spagnolo, diciamo, la Coppa Italia, ecco, intendiamoci, per chi non è mastica di calcio. Sì, come la Coppa Italia. Ho vinto anche lì come capocannoniere l'anno che abbiamo vinto la Coppa dell'Arena. Poi mi sono trasferita in Russia dove ho giocato tre anni e anche lì ho avuto la fortuna di vincere un campionato. Migliore giocatrice russa e capocannoniere. Poi sono tornata in Sardegna dove sono stata solo pochi mesi a Sassari per problemi societari. Mi sono trasferita l'ultimo anno in Svezia, ma avevo 32 anni e poi volevo già iniziare a essere allenatrice. E tu da calciatrice eri una, diciamo, il classico numero 10, però più gol che assist. Sì, mi piaceva tanto fare gol. Sì, sì, no, poi... No, no, sì, mi piaceva fare gol. Preferivo il gol che l'assist. Che l'assist. Infatti ne ho fatti quasi 300 nella mia carriera. E con la nazionale invece com'è andata a livello di nazionale? Sì, ho giocato 16 anni in nazionale. Eh, mica pochi. Sì, ho passato una parte della mia vita in nazionale. Anche lì ho fatto tanti gol, più o meno sui 40, se non ricordo male. Giocando due europei, terzo con l'Under 17, dove sono stata nominata come migliore giocatrice d'Europa quell'anno. E poi mi sono dimenticata che ho giocato anche negli Stati Uniti. Ah, ecco. E ho fatto sei mesi negli Stati Uniti a Buffalo. A casa della Morgan, a casa della Rapinone. Sì, mi avevano rinnovato il contratto, ma non ci sono voluta rimanere. E sta, è un rimpianto. Senti, invece come allenatrice, tu hai cominciato quasi subito praticamente, e sei arrivata in Venezuela. Dico, da Ballarò, che è il quartiere dove è cominciato probabilmente a dare primi calci al pallone. Sì, sì, assolutamente. È un mercato tra le panchiarelle. Ecco, ma cosa dicevano, quando eri piccola, cosa ti dicevano a Ballarò? Che mi bucavano il pallone. La classica frase, ora lo bucchiamo sto pallone. Perché non so quante arance, quanta frutta ho fatto cadere, e poi mio papà che vendeva le uova o le... Si immedesimava magari nei colleghi, diceva, va bene, figlia, mi andiamo a... No, lui mi appoggiava sempre, però tante volte mi piaceva uscire dalla taverna palleggiando, perché era come una sfida, senza farla cadere mai, però tante volte lui vendeva anche i broccoli alla pastella, sabe? Certo. E quindi... Street food palermitano. Diceva, stai attento all'olio, stai attento all'olio, finché ho fatto cadere il pallone dell'olio. Mi sembra anche naturale. Però non mi ha picchiata, non ha... No. Mi ha detto solo, batte, non ti voglio vedere per i prossimi almeno due mesi. E allora, sei arrivata ad allenare la nazionale venezuelana. Come sei... Ecco, com'è nata questa avventura in Venezuela? Sembra strano, però penso che Venezuela mi abbia chiamato in un certo senso, perché mi ritrovavo a Madrid, quell'estate, perché lavoravo con l'Atletico Madrid, stavo allenando l'anno e 17 dell'Atletico Madrid, e ero lì a Madrid con dei ragazzi venezuelani che erano venuti a fare uno stage. Mi ha chiamato il mio procuratore dicendo che Venezuela stava cercando allenatrici italiane. E se potevo informarmi se realmente era... Era fattibile. Era fattibile la cosa. E quindi ho parlato con i genitori di questi ragazzi che erano lì a Madrid con me in quel momento lì. Mi hanno detto sì, è così. E da lì... Quindi hai fatto la domanda, e da lì poi hai avuto il contatto con la federazione, e eri andata avanti. Tu hai cominciato ad allenare la nazionale in un periodo pre-Covid, nel 2019. Poi è successo quello che è successo, la pandemia e tutto questo. Poi avete ripreso subito di gran carriera, come si suol dire, con le qualificazioni... No con le qualificazioni, con la Coppa America praticamente, che per poco mi qualificava ai mondiali. Sì, io posso dire che ho iniziato a lavorare settembre del 2020, perché dal 2019... No, nel 2021 scusami. Dal 2019, ottobre 2019, fino a settembre 2021, non abbiamo mai fatto un raduno. Quindi non vi siete nemmeno conosciute? No. Con queste ragazze? Non ho mai, e quindi il mio lavoro è iniziato a settembre 2021, dove abbiamo cambiato presidente perché è morto per Covid. C'è stata una nuova presidenza, che mi ha dato fiducia, anche se non mi conosceva. Esatto, c'è stata anche fortunata. La fortuna ci vuole, gioca sempre un ruolo la fortuna, in minima parte o in grande parte. Ti ha permesso di continuare questa avventura incredibile, che poi l'assunzione in Paraguay, quando mi sembra sbaglio... No, prima siamo stati in Colombia... Sì, no, dico l'assunzione in Paraguay quando avete vinto la loro. Sì, abbiamo vinto la loro. In Colombia avete sfiorato la qualificazione mondiale. Sì, abbiamo perso i rigori contro il Cile, dopo aver pareggiato a 92esimo. Però per la prima volta anche lì nella storia ci siamo qualificati ai giochi panamericani, che si svolgeranno in Cile nel 2023. Fino a stretto giro? Sì, ottobre fine 2023, sì. Siete già in programmazione adesso? Sì, adesso a novembre abbiamo due amichevoli in Spagna e poi stiamo ricominciando per ricostruire le nazionali Under 20, Under 17, e per la prima volta sto costruendo anche l'Under 15, una cosa che in Venezuela non c'è mai stata. Bene, bene. Senti, come vedi il calcio? Tu hai portato questa vittoria che darà molto entusiasmo. Come pensi possa cambiare il calcio in Venezuela? Io penso che ci sia ancora... Calcio femminile, chiaramente. Io penso che ci sia ancora tantissimo da fare, siamo indietro di tantissimi anni rispetto all'Europa. Siamo sulla buona strada? Sì, perché comunque da 0 a 1 ci siamo arrivati, però da 0 a 10 ci vogliono tanti anni. la cosa spero, anche se non ci dovessi essere io, che comunque la federazione dia la possibilità di continuare questo processo, questo percorso. Io a volte confondo le parole spagnolo e che noi diciamo este proceso, questo progetto. Giustamente vivendo là anche è chiaro che poi uno prende la lingua e la fa propria, se ne appropria. Però come dicevamo prima, il Presidente ha detto sei tranquillamente libera, finché vinci. Sì, no, a me piacerebbe rimanere in Venezuela ancora qualche anno, però anche giusto, e penso che sia normale anche da parte mia, cercare altri stimoli, vivere altre esperienze, anche perché dopo qualche anno non saprei... Sto dando tanto? Certo, magari hai bisogno tu di nuovi stimoli. Senti, ma diciamo un attimino un po' di gossip, tra virgolette, se esiste, se... Ma è possibilità qua in Italia, ti hanno chiamato, ti hanno contattato in Italia? No, penso... Ancora no, forse ancora è un po' fresca la cosa. No, avevo avuto un contatto due anni fa con il Napoli, che mi avrebbe voluto sulla panchina del Napoli, però io avevo appena firmato con il Venezuela, e quindi non si è fatto niente. Ti dico la verità, io sto bene in Venezuela, mi piacerebbe tornare in Italia, claro, che sì, sì, mi piacerebbe, però diciamo che mentalmente sono ancora per il Venezuela... Sei concentrata sull'obiettivo, anche perché tu dicevi pure, noi abbiamo l'obiettivo di qualificarci per i mondiali. Sì, quello è il mio sogno, e penso che se dovesse avere la possibilità, perché il Presidente mi lascia lavorare, il mio sogno è portare Venezuela ai mondiali, e forse sarebbe il momento giusto per poter lasciare il Venezuela. Da vincente. È quello che... Senti, a proposito di sogni, ne abbiamo parlato anche in una precedente intervista per Blog Sicilia, ci sarebbe un sogno? L'ho buttata io come idea, però perché no? Dico, siamo in tv, si può anche provare, una bella amichevole qui al Barbena, tra Italia e... Sì, questo sarebbe un sogno. E Venezuela. Sì, sarebbe un sogno per me, penso da buona palermitana, tornare nella propria città, con giocare contro la mia nazione, con la mia nazionale. Quindi penso sia il sogno di tutti, a me piacerebbe confrontarmi con la nazionale italiana, e poi sarebbe un'esperienza bellissima. Certo, tra l'altro giochi a casa tua, nel tuo Barbera. A proposito di casa tua e il tuo Barbera, questo Palermo tu lo segui? Il Palermo ti abbiamo visto ogni tanto anche nelle foto di archivio in maglia rosa nera, insomma, quindi sei anche appassionata, sei tifosa. Come lo vivi questo momento un po' così nel Palermo? Penso che sia un momento un po' complicato, un po' difficile, anche perché quando inizi una striscia un po' negativa è difficile da venirne fuori. Penso che comunque il Palermo ha le caratteristiche, ha le potenzialità da poter uscire da questa retrocessione. Comunque siamo i quartultimi, terzultimi, con la differenza reti, ma ci sono tante squadre vicine, ancora è presso, siamo alla regione aggiornata. Io penso sì, con due o tre vittorie, è normale, si deve dare fiducia al mister, al mister Corini, anche se io non mi metto in mezzo a queste cose, perché non so realmente cosa ci sia lì dentro, però è una società nuova, e si deve avere pazienza. Ok, senti, abbiamo parlato dei tuoi obiettivi, che sono le qualificazioni mondiali, abbiamo parlato di questo sogno, che sarebbe bello riuscire a fare un amichevole con la nazionale. Il calcio femminile in Italia, come lo vedi? Sta crescendo, ci sono stati anche sotteggi mondiali, un gruppo tosto con la Svezia, con l'Argentina, che voi avete affrontato. Abbiamo perso una a zero dopo aver sbagliato l'impossibile, non mi fa ricordare quella partita. Allora è un buon viatico per noi, si può battere l'Argentina. Sì, io penso che l'Italia sia più forte dell'Argentina, anche se l'Argentina ha diverse giocatrici importanti, c'è Banini, c'è Vanessa Santana, c'è Jamila Rodriguez, quelle che ha fatto il gol. Quella che vi ha fatto il gol a voi? Sì, che sono 5-6 giocatrici di un grandissimo livello, però penso che l'Italia sia molto più forte. Più organizzata. Più organizzata, sì, anche con i nomi, Giacinti, Girelli, Rosucci, Giuliano, Martina Piemonte, Saragama, se continuerà. Insomma, diciamo che abbiamo le possibilità per fare bene. Sì, sì, l'Europa non è andato granché, ai noi, però sono cose che capitano, evidentemente. Sì, io penso che anche il coach Bertolini stia facendo un grande lavoro, adesso sta rinnovando anche un po', rigiovanendo un po' la nazionale, quindi ha anche bisogno di tempo, e poi a livello europeo ci sono squadre già pronte da... L'Olanda, la Svezia, la stessa Svezia che avevamo nel giro. Olanda, Svezia, Inghilterra, Francia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Germania. Germania, certo. Comunque hanno sempre fatto la storia, sono sempre state delle potenze europee a livello... Mentre dal lato sudamericano non ci siete voi, purtroppo ci sarà il Cile, ai noi. No, ancora il Cile deve fare un sorteggio a febbraio. Ah, deve fare uno spareggio? Uno spareggio, sì. Ah, e con chi lo giocherà? Non si sa ancora. Ancora non si sa, ok. Quindi diciamo che voi la storia aveva chiusa, ma dovevate fare un altro... Sì, perché era formato così, non è diverso dall'europeo. Sì. In Sud America funziona che fanno due gruppi da cinque, le prime due fanno le semifinali per il campionato. E le terze giocavano tra di loro per giocare al quinto posto. E poi là avrebbe avuto... Il quarto e quinto andavano a fare gli spareggio a febbraio. Perfetto. Quelli che avreste, se avreste vinto i rigori, avreste fatto voi. Senti, avventura in Venezuela, ci sono similitudini a livello ambientale, anche paesaggistico, a livello di persone con Palermo? Sì, totalmente. Quindi tu ti sei ambientata subito? Benissimo. Alla prima c'è sempre caldo. Come qua? Come qua. Cioè, dal primo di gennaio a 31 di dicembre... C'è caldo. C'è caldo. A Caracas io penso che sia il clima miglior al mondo, perché 25 gradi tutto l'anno, non ho mai portato un giubbotto, sono a maniche corte tutto l'anno, quindi... Forse quelli istituzionali della federazione, perché le mi mette. Sì, assolutamente. Solo quello mi rende felice. Svegliarmi e c'è il sole, quindi mi rende felice. Poi la gente è gentilissima, è educata, è incredibile, è molto affabile, c'è qualcosa di... Si lavora bene, ecco. Non c'hai pressione. No, no, c'è la pressione delle istituzionali a parte della federazione, però quando parlo con la gente, nei ristoranti, in giro, mi hanno sempre rispettata, mi hanno sempre amata, quindi è veramente incredibile. L'ospitalità, l'ospitalità proprio come in Sicilia. Tu hai vinto questo trofeo con altri due palermitani nello staff, ricordiamoli anche. Sì, c'è mio fratello Vincenzo Conti e preparato dai portieri, Carmelo è sempre vivo. Immagina l'ultimo... Ai rigori, certamente il portiere diventa decisivo. No, no, ma i rigori, loro hanno sbagliato per prima. Poi quella che ha sbagliato è la miglior rigorista che avevamo. Allora mi sono girata verso Carmelo e verso mio fratello, ho iniziato a implecare in palermitano. Mi sembra anche giusto. Suppongo che abbiano capito tutti comunque. Sì, infatti, questa foto... No, diciamo semplicemente che non era giusto perché dopo aver... Avevano dominato una partita. Avevano dominato, vincevamo 2 a 1, abbiamo fatto un errore nostro e rivivere la partita contro il Cile. Certo, sarebbe stata una beffa troce. Sì, e poi invece hanno sbagliato loro e è venuta fuori una festa incredibile. Venezuela, diciamo che, quantomeno ha un trofeo che parla palermitano. Tuo palermo è cominciato, dicevamo, giovanissima, 16 anni nelle Aquile e poi subito... Ma come è nata subito questa avventura in Sardegna? La calciatrice. Sì, perché a 16 anni sono stata convocata per uno stage con la Nazionale Maggiore. Sì. E c'erano delle ragazze che giocavano nella Torres che mi hanno vista e hanno chiamato subito il presidente della Torres dicendo andate a prendere questa ragazzina. Questa è brava. Questa ci aiuta. Andate a prendere questa ragazzina dove vive che questa è bravina. Rifacciamo un altro balzo in avanti. Tu come allenatrice, come tecnico, chiaramente ti aggiorni e abbiamo parlato anche nell'altra intervista in cui dicevi stai studiando la mental coach perché gestire le emozioni adesso è fondamentale quanto saper preparare una squadra in campo. Sì. Quanto ti ha aiutato per vincere quest'oro? Il sapere affrontare anche. Oltre a imprecare imparare il mito che ci sta e va bene ma io racconto sempre che dopo la sconfitta contro il Cile io sono rimasta a casa una settimana non volevo uscire non sapevo più cosa fare perché mi ero svuotata certo ero a pezzi e poi ho detto cosa posso fare per continuare a dare il meglio di me stessa però non trovavo una soluzione quindi ho parlato con il vicepresidente della federazione dove mi ha detto guarda c'è questa persona che è mental coach che ha già lavorato con la maschile che ti può dare una mano che ti può dare una mano da prima la prima riunione che ho avuto face to face con lui ho capito che era il momento giusto e adesso stai diventando anche tu stai studiando per diventare qualcosa che mi affascina qualcosa che è un mondo da esplorare dove ogni giorno sto crescendo sto proprio a livello personale e questo è importante questo è importante e sto portando anche tutto quello che sto imparando alle giocatrici anche perché mi sono calmato un po' di più cerco di usare le parole più adatte per arrivare alle emozioni delle ragazze e invece senti velocissimi perché il tempo è tiranno a livello tecnico e tattico tu hai un tuo modulo ti piace ti ispira a qualcuno sì io amo guardiola amo guardiola però gioco alla club mi piace giocare alla club non gioco mi piacerebbe giocare alla club perché mi piacciono molto le transitioni però ci vogliono giustamente le state facendo crescere sì vabbè io arrivo dalla scuola spagnola perché ho studiato in Spagna ho preso anche il patentino UEFA a Madrid ho lavorato con l'Atletico Madrid ho lavorato anche con i Valencia ho giocato tre anni in Spagna quindi certo il mio metodo un po' spagnolo anche se lo sto mettendo insieme con quello di mio fratello italiano-spagnolo italo-spagnolo italo-spagnolo e quindi e questo questo modulo o questa mentalità si spera che vi possa portare più in alto possibile infatti discuto sempre con mio fratello che mio fratello vuole difendere e tu vuoi attaccare vabbè la portiere giustamente no no lui è secondo lui non è preparato ah è secondo ah giusto lui lavora la difesa io lavora l'attacco benissimo e allora detto questo salutiamo ancora Pamela Conti la ringraziamo e detto questo salutiamo i nostri telespettatori arrivederci nella prossima puntata con l'approfondimento di Talk Sicilia